Il prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone, ha convocato per mercoledì prossimo il commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 3 per discutere della ormai ben nota chiusura della Ergon, la partecipata che si occupa del ciclo dei rifiuti nei comuni della Diano e del Golfo e della conseguenziale licenziamento dei 105 lavoratori. L'appuntamento è stato fissato dopo le proteste intraprese dai lavoratori all'indomani del ricevimento delle lettere di cessazione dell'attività della SPA, ma ora hanno fatto sapere tramite una lettera diffusa anche alla stampa, oltre al danno la beffa. Dopo essere stati trasferiti nei mesi scorsi dalle dipendenze di una società pubblica ad una privata attraverso la cessione di un ramo d'azienda alla Ergon da parte del CDA dell'ente consortile, ora la SPA ha deciso di chiudere i battenti mandandoci a casa. Nei documenti i lavoratori denunciano il tentativo di accaparramento dell'intera area di trasferenza dei rifiuti di polla da parte dei privati. Si tratta, evidenziano nella missiva i dipendenti, di un atto illegittimo poiché l'impianto a suo tempo è stato realizzato con soldi pubblici. Oggi invece potrebbe diventare improvvisamente privato proprio quando tutti gli altri impianti campani con i prossimi interventi legislativi dovrebbero essere di esclusiva competenza pubblica. Bisogna interrompere, concludono i lavoratori, i soliti giochetti politici. Tutte le autorità devono adoperarsi affinché quest'ennesimo scippo sia portato a termine.